Francesco Totti torna a parlare della Roma e del motivo per cui non è più in società. L'ex capitano storico del club giallorosso è stato ospite questa sera nella trasmissione Super Tele di Dazon per commentare il match tra Atalanta e Roma. La squadra di Mourinho è uscita sconfitta dal Gaby Stadium per 3-1, complice anche un errore di Rui Patricio sul terzo gol. Totti, tra le altre cose, ha commentato il cammino della Roma in campionato, definendolo complicato, poiché ci saranno 4-5 squadre a lottare fino alla fine. L'attaccante italiano, legato alla società giallorossa per tutta la sua carriera, ha abbandonato il campo nel 2017 per poi successivamente interrompere anche i rapporti professionali con il club. Il matrimonio si fa sempre in due, queste le sue parole questa sera a Dazon. Sembra una risposta banale, ma è così, non dipende da me. Il calciatore però non chiude tutte le porte e continua con mettersi seduti a parlare di tante cose davanti ad un caffè è una cosa che si può fare. Vi aspettate un ritorno di Francesco Totti in casa Roma?